Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video a tema Cash Cow Channel, come sempre qui il vostro Ale Lorenzi e come sempre se questi argomenti vi piacciono vi do tre raccomandazioni per voi velocissime, ve lo giuro per me fondamentali perché aiutano a far crescere il canale il primo iscrivetevi appunto a questo canale, il secondo sfondate il pulsante dei like che trovate qua sotto e beh il terzo se questi video vi piacciono scrivete altri video nei commenti, io ve li porto, ve li porto, ve li porto come anticipato oggi parliamo di Cash Cow Channel e voglio rispondere a una domanda molto importante dal mio punto di vista che in passato mi feci anch'io, quindi una domanda che ho vissuto in prima persona e poi una domanda che sto ricevendo molto attraverso Instagram, tra l'altro se non mi seguite, seguitemi come sempre sapete che per quanto riguarda il mondo del Cash Cow Channel vi condivido quello che è la mia giorni ovvero quello che è il mio viaggio all'interno di questo mondo, quindi quello che mi sta funzionando piuttosto che quello che ho scartato, piuttosto che cose che ho imparato, studiato, analizzato e beh arrivati a un certo punto mi è sorta questa domanda che poi ripeto è condivisa anche da voi che mi seguite ovvero quanti canali Cash Cow Channel aprire, perché se da un lato il Cash Cow Channel, vi ricordo in breve che cos'è ma veramente sul canale c'è una playlist dedicata infinita, ovvero il Cash Cow Channel sono tutti quei video dove non dobbiamo mettere la faccia, dove magari c'è una sovrapposizione di video, immagini, la musica, un voice over quindi una voce narrante che può essere la nostra oppure di un professionista o comunque esterna quindi non sono video come questi per intenderci dove c'è il mio faccione, dove io mi racconto, mi metto in prima battuta sono video dove fondamentalmente non sappiamo chi c'è dietro e quindi questo ovviamente diventa un business model molto attraente soprattutto per chi magari è spaventato dalla fotocamera, soprattutto per chi vuole trovare alternative o farsi anche semplicemente un side income, quindi fa qualcos'altro magari nella vita e vuole crearsi un Cash Cow Channel quindi è molto allettante da una parte, sicuramente è arrivato a un certo punto, bisogna delegare, bisogna trovare i vari componenti del team come vi ho già raccontato nel canale, ma diventa anche interessante perché uno inizia a dire posso scalarlo, posso replicarlo allora per quanto riguarda lo scalare magari registrerò un video dedicato dove vi spiego tutti i ragionamenti, tutto quello che sto facendo io ma oggi concentriamoci invece, focalizziamoci in verticale sulla domanda, cioè su rispondere alla domanda quanti Cash Cow Channel aprire, perché ripeto da un lato è molto allettante, dall'altra parte ovviamente quando vedete che le cose iniziano a muoversi e a funzionare con uno si inizia a pensare ok ne apro un altro in un'altra nicchia e ripeto è una domanda che mi sono posto anch'io perché chiaramente essendo dei canali dove non devo metterci la faccia dove nessuno sa che ci sono io dietro, posso effettivamente spaziare tra tantissime passioni che ho qui magari mi sentite parlare di business online, media buying, che oltre a essere la mia passione è anche la mia professione il media buying, tuttavia io ovviamente come qualsiasi altra persona ho diverse passioni, per esempio il basket, piuttosto che i viaggi eccetera eccetera quindi all'interno dei Cash Cow Channel posso ovviamente, potrei crearmene uno per ogni passione fondamentalmente andando quindi a aumentare le possibilità di monetizzazione, creando diverse community e molti molti altri aspetti che poi analizzeremo nel corso dei video e quindi questa domanda ovviamente me la sono posta anch'io, qual è stata la risposta? allora la prima cosa che ho fatto per rispondere a questa domanda e che vi invito a fare anche voi è quella di capire a che punto siamo col primo canale ovvero sappiamo che più noi siamo focalizzati su una cosa più la riusciamo a portare in alto nel momento in cui affianchiamo ad esempio un secondo, un terzo, un quarto canale inevitabilmente togliamo focus dal primo quindi la prima domanda per rispondere a questa domanda, comunque il primo quesito che dobbiamo porci è a che punto sono con il primo canale? bene se il primo canale è autonomo o semi autonomo vale a dire magari io mi occupo anche solamente di una parte che può essere ad esempio il voice over o lo scrivere lo script e tutto il resto è delegato a un team comunque va avanti anche senza di me potrebbe essere un punto interessante in cui aprirsi ad altri canali così come è ottimale se il canale è completamente delegato quindi magari voi fate un po' da supervisor, guardate il team, guardate gli argomenti, cercate nuove idee per i video però poi finisce lì il vostro impegno perché c'è una persona per i voice over, c'è una persona per l'editing video, una per le miniature eccetera eccetera quindi la prima cosa che dobbiamo fare è identificare a che punto siamo con questo canale perché se questo canale ci richiede un focus minore noi possiamo prendere quel focus che ci avanza e dedicarlo a un altro canale la seconda cosa è capire effettivamente su che cosa noi vogliamo fare un altro canale andare a fare un canale identico o con argomenti molto simili al nostro primario, quindi al primo che abbiamo creato è un po' controproducente perché rischiamo di farci la concorrenza in casa ricordatevi sempre che Google, comunque YouTube che fa parte di Google è un motore di ricerca per cui se noi ovviamente facciamo video con le stesse keyword, con gli stessi interessi ovviamente finiamo sempre nello stesso paniere quindi se vogliamo creare un secondo canale bene dobbiamo crearlo su un'altra passione che abbiamo su un altro argomento che ci piace raccontare ovviamente questa può sembrare una domanda stupida da porsi in realtà vi assicuro che mi arriva molto nei direct su Instagram quindi nel momento in cui volete attenzionare un altro canale fatelo su un altro argomento non sempre sullo stesso perché altrimenti ripeto vi fate la concorrenza in casa e la terza cosa da tenere in considerazione è che un nuovo canale richiede più focus di uno che già si sta muovendo da solo quindi se voi avete già per esempio un primo canale che è completamente delegato o semi delegato che magari è arrivato alla monetizzazione oppure gli manca pochissimo per arrivargli sicuramente avete già fatto un'esperienza, delle riflessioni, delle analisi di un certo tipo andare da lì a creare un altro canale ovviamente significa ripartire da capo quindi identificare una nicchia, andare a preparare gli script, la regola dei video per capire, la ricerca delle parole chiave dovete fare esattamente tutto quello che avete fatto per il primo canale e ovviamente portarvi dietro il carico di esperienze, di errori, di lezioni imparate che avete fatto con il primo la cosa divertente è che quando andate a creare un altro canale bene o male il primo l'avete usato un po' come palestra quindi per capire ad esempio cosa funziona, cosa non funziona e tanti aspetti che poi nel secondo, terzo, quarto, quinto canale perché adesso arriviamo anche a questo vi portate dietro come esperienza ovviamente tenete in considerazione che diverse passioni sono diverse nicchie qui sul canale trovate anche un video dove vi ho raccontato le nicchie più profittevoli se volete ispirarvi comunque io vi ricordo sempre di scegliere, o meglio più che vi ricordo vi suggerisco sempre di scegliere delle nicchie che vi piassono quindi che non vi annoiano, andate a creare un canale che voi guardereste tutti i canali che ho io sono canali che io se mi passano davanti guarderei cerco sempre di creare qualcosa che mi piace e che in qualche modo anche se non correlato a me mi rappresenta e che quindi se un domani vi faccio un esempio uno del team non può seguire un progetto e magari sono costretto a farlo io comunque mi appassiona diversamente andare a fare un argomento che non mi interessa eccetera eccetera sarà anche molto difficile inizialmente dedicarci il focus e veramente fare delle azioni pratiche in più ricordatevi che ogni nicchia appunto ha la sua storia quindi ci sono delle nicchie che magari corrono più velocemente quindi sarà più facile portare magari alla monetizzazione altre nicchie che magari sono più tecniche e hanno bisogno di molto più tempo per arrivare ai requisiti e soddisfarli e questo spesso si traduce anche con cpm differenti quello che sto analizzando io è che spesso e volentieri le nicchie più tecniche se sono appunto all'interno di quelle nicchie più profittevoli o in cpm più alti però è anche vero che dall'altro canto in una nicchia magari un po' più commerciale riusciamo a fare molte più view arriviamo prima alla monetizzazione quindi i video singolarmente mi generano molte più view rispetto a un tecnico quindi alla fine cpm più basso ma più view cpm più alto ma meno view inoltre il vantaggio di creare un altro cash cow channel è quello di creare più gambe dello stesso tavolo perché avere tutte le uova in un paniere è una lezione che non consiglio nel senso che è sempre meglio diversificare quindi anche andare su altri canali vi permette di diversificare il più possibile inoltre attenzione che non c'è un limite a quanti cash cow channel potete creare in realtà potreste crearne uno, dieci, centomila ovviamente la cosa che non deve mai mancare indipendentemente dallo step in cui siete per ogni singolo cash cow channel è quello di riuscire a essere focalizzati comunque avere anche se siete semplicemente da supervisor quindi da controllo comunque riuscire a essere sul pezzo e controllare l'andamento e come stanno andando le cose non è un business che comunque potete abbandonare lì magari anche se arriverete a dedicarci una o due ore al giorno perché veramente controllate i team comunque bisogna dedicarci un'ora al giorno, due ore al giorno poi dipenderà molto dai volumi e da tantissime cose non è un business comunque che va abbandonato assolutamente e poi ovviamente più cash cow channel significa più focus per scalarli ma di questo magari ne parleremo appunto in un video dedicato quindi per rispondere alla domanda quanti cash cow channel creare in realtà non c'è una risposta potete creare tutti i cash cow channel che volete premesso che l'importante è quello che io vi invito da amico e da persona che si sta muovendo ormai da qualche mese all'interno di questo mondo la cosa che vi consiglio sempre di tenere in mente e di considerare quando andate a creare altri cash cow channel è quello di essere focalizzati non togliete focus magari dal primo canale per avere fretta di crearne un altro se questo appunto non è già arrivato a un punto che vi lascia muovervi su altre cose piuttosto continuate a battere su quello fino a portarla a un livello che vi soddisfa o comunque totalmente delegato o semi delegato dove appunto magari voi avete un ruolo minore magari dovete fare solo le miniature però tutto il resto ormai è verso l'esterno allora arrivati a quel punto può essere interessante iniziare a crearsi un impero di cash cow channel ma argomenti che magari affronteremo nei video se questo video vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale lasciate un like Dalle Lorenzi è tutto ciao guys